salve eccoci qua ben ritrovati a questo appuntamento nel quale come avete visto dal titolo affrontiamo un tema spesso dibattuto e di sicuro interesse per chi si prepara ai concorsi pubblici è interessante in generale per l'analisi del diritto amministrativo la vicenda è abbastanza semplice ve la sintetizzo viene bandito un concorso durante questo concorso la amministrazione procedente in questo caso l'agenzia dei monopoli procede a modificare le materie del concorso richiedendo già nella prima prova alcune materie che aveva indicato come richieste per la preparazione alla seconda prova e un partecipante che è stato escluso perché non ha raggiunto la sufficienza impugna gli atti della procedura concorsuale quindi vediamo il tarlazio sentenza 3724 2022 in attesa del probabile appello al consiglio di stato quindi vedremo poi la sentenza del consiglio di stato se confermo meno questo orientamento ma ci interessa comunque a prescindere vediamo il tarlazio come ricostruisce la questione questa è utile perché molti per esempio mi scrivono dicendo ma nel bando non era previsto la materia degli appalti non era previsto il pubblico impiego è un concetto leggermente diverso quindi chiariamo poi tutti questi aspetti infine lo dico coglierò l'occasione di questo momento per farvi vedere anche i costi di una procedura concorsuale quanto costa far bene barra male un concorso quanto costa doverlo ribandire quanto costa la collettività quindi costa a tutti noi oltre ovviamente all'interessato che ha dovuto spendere di spese legali vediamo allora questa sentenza non ci interessa ovviamente il nome del ricorrente o della ricorrente per l'annullamento previa sospensione del concorso pubblico per esami a complensivi 460 posti per la figura secondaria fascia f3 agenzia delle dogane e dei monopoli vediamo allora i documenti che sono stati oggetto di impugnazione sono numerosi perché anche questo è un'occasione di ripasso quando si impugna un provvedimento amministrativo si all'onere di impugnare tutti i provvedimenti collegati che se rimanessero in piedi diciamo renderebbero il ricorso improcedibile o inefficace quindi si impugna la determinazione del 19 agosto agosto 2021 che stabilisce queste modalità diverse di svolgimento della prova la comunicazione della valutazione della prova scritta quella con cui appunto è stato redatto il verbale da cui è stata esclusa questa persona il calendario della prova scritta relativo verbale la busta 1 contenente le domande insomma tutti gli atti vedete nove atti di gara impugnati di cui si chiede complessivamente l'annullamento la vediamo qual è la ricostruzione il la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per 460 unità non avendo superato la prova scritta ha impugnato l'atto di esclusione ovviamente sappiamo che gli atti di gara possono essere impugnati soltanto se sia un interesse e sia un interesse se si è esclusi solo gli atti che contengono clausole immediatamente escludenti possono essere impugnati quindi se un bando prevede un limite di età 35 anni e io non ho quell'età allora posso impugnare direttamente altrimenti anche se ritengo che sia legittimo il contenuto di un bando perché contiene delle materie non previste non pertinenti ma io ho la possibilità di partecipare non potrò impugnarlo direttamente dovrò aspettare di essere escluso dalla procedura e infatti non avendo superato la prova scritta in quel momento che nasce l'interesse al ricorso ha impugnato l'atto di esclusione quindi la la pec con la quale gli è stata comunicata l'esclusione e ha ritroso tutti gli altri atti di gara rispetto ai quali non sono decorsi termini di impugnazione questo è importante noi sappiamo che un provvedimento amministrativo sia all'onere di impugnarlo entro 60 giorni ma entro 60 giorni dalla sua lesività cioè dal momento in cui diventa lesivo nei miei confronti quindi nel momento in cui io sono escluso diventa lesiva anche la determinazione di un anno prima fino ad allora non avrei potuto impugnarla anche se poi si dimostra che è all'esiva quindi a ritroso tutti gli atti di gara sino a risalire alla determinazione del 19 agosto 2021 la prima che determina diciamo questa sequenza di legittimità la cosiddetta illegittimità derivata quando studiate sul libro sul manuale l'illegittimità derivata è questa è la conseguenza che un atto quello dell'agosto 2021 si riverbera sugli atti successivi il bando di concorso infatti subiva plurime modifiche ciascuna delle quali resa oggetto di apposita pubblicazione di conseguente riapertura dei termini fin qui il comportamento di adm è stato riconosciuto legittimo ogni volta che si modifica il bando in modo sostanziale cambiandone dei requisiti o degli aspetti fondamentali si deve riassegnare un termine congruo per presentare domande ai nuovi interessati qui ci sono tutti i contenuti delle modifiche l'ultima versione rettificata del bando di concorso del 13 aprile 2021 ha provveduto quindi a cristallizzare le materie oggetto di prova scritta e orale identificandole in quelle nomenclate nell'allegato 1 del bando quindi l'allegato 1 del bando è stato definitivamente individuato il 13 aprile del 2021 rinviando ad un successivo avviso la definizione delle concrete modalità di svolgimento quindi il 13 aprile adm dice queste sono le materie dopodiché stabilirò come si fa in quale sede in quali gruppi la lettera estratta le modalità organizzative con determinazione direttoriale del 19 agosto 2021 il direttore dell'unità competente al dichiarato scopo di fissare le concrete modalità di svolgimento della prova scritta che era il compito che si era riservato con il precedente atto ha aggiunto nel novero delle materie da sostenere per la prova scritta quindi per la prima prova tre ulteriori materie polizia giudiziaria lingua ingrese e i fini istituzionali l'ordinamento e le attribuzioni dell'agenzia delle dogane che invece in base all'allegato 1 del bando avrebbero dovuto formare oggetto della prova orale quindi anticipato la prova scritta la prova orale quindi il tema è è legittimo anticipare delle materie comunque previste dal bando e quindi erano materie descritte come materie che lo studente doveva conoscere è possibile anticiparle alla prova scritta prevedere una modalità diversa questo è il tema fondamentale oppure lo studente ha diritto a non prepararsi su quelle materie finché non arriva la prova relativa per cui mi preparo tranne quelle tre perché so che solo se passo all'orale le vado a studiare vediamo il tribunale amministrativo che cosa ha detto su questo tema intanto questa determina ha previsto che almeno due delle domande a risposta multipla delle dieci previste fossero in lingua inglese quindi la materia dell'inglese era stata introdotta prevedendo domande formulate in lingua inglese e le due domande a risposta aperta avvertevano proprio sulle materie previste per l'orale quindi le due domande a risposta aperta erano polizia giudiziaria e fini istituzionali e attribuzioni di adm col colei che ha fatto ricorso non ha ottenuto 21 trentesimi altrimenti non avrebbe potuto impugnare o meglio avrebbe potuto impugnare chiedendo una valutazione diversa ma non l'esclusione rilevandosi decisive le due domande a risposta aperta perché ha ottenuto un punteggio basso nelle due domande a risposta aperta per cosa si lamenta il ricorrente eccesso di potere per sviamento contraddittorietà carenza distruttoria di motivazione sappiamo che quando si impugnano gli atti occorre indicare gli elementi di motivazione le vedete questi fra virgolette questi sono gli elementi è una formulazione classica rituale violazione dell'articolo 97 della costituzione c'è quasi sempre articolo 3 del dpr 487 il regolamento generale sui concorsi pubblici e il bando del 13 aprile 2021 che ricordate all'allegato 1 conteneva l'elenco delle materie divise fra scritto e orale quindi eccesso di potere per contraddittorietà carenza distruttoria e di motivazione perché cosa dice la il la ricorrente se tu ti eri auto vincolato violazione dell'auto vincolo del bando di concorso cioè hai stabilito che le tre materie erano per l'orale non puoi con un successivo atto di esecuzione anticiparle allo scritto inoltre eccesso di potere per difetto di motivazione per quale motivo le hai anticipate qual è l'esigenza l'urgenza l'emergenza non solo per come era formulato il bando e questa forse è stata la criticità maggiore il bando prevedeva 2000 caratteri come limite massimo di scrittura fra i criteri che la commissione si era data di valutazione per attribuire il punteggio c'era il criterio della capacità di analisi e di eventuale soluzione di problemi non richiedenti valutazioni discrezionali la ricorrente giustamente dice ma in 2000 caratteri più che scrivere semplicemente la definizione non posso scrivere quindi nel momento in cui mi hai messo un criterio di valutazione che è ontologicamente come si dice essenzialmente incompatibile con una sintesi così elevata è irragionevole ogni valutazione tu non puoi aver valutato questo criterio perché la capacità di analisi in un tema sintetico è proprio per definizione uno simolo o sei analitico o sei sintetico in 2000 caratteri sei ultra sintetico questa è forse la motivazione più forte questo guardate a prescindere dalle materie quindi anche se le materie della seconda prova fossero state quelle del bando questo sarebbe stato un criterio che avrebbe potuto portare all'annullamento vediamo allora cosa dice il tar il collegio scrutina le eccezioni di inammissibilità del ricorso fra queste condizioni ve ne segnalo una il fatto che la determinazione del 19 agosto non fosse stata impugnata dall'interessato e il tar dice no stiamo calmi l'interessata è stata ammessa a partecipare alla prova non aveva l'onere di impugnare una determina anche se la considerava illegittima perché se fosse stata ammessa e avesse superato la avesse preso la sufficienza non avrebbe avuto problemi quindi il candidato avrebbe comunque potuto superare la prova pur con un bando illegittimo quindi questo non esclude la possibilità di impugnare nel momento in cui si è escluso secondo requisito per poter impugnare un bando la cosiddetta prova di resistenza cioè io devo dimostrare che annullando quella prova o quelle prove illegittime io avrei ottenuto la sufficienza perché perché se anche annullando quelle prove io non avessi ottenuto la sufficienza non potevo fare ricorso perché non sarei comunque stata ammessa allora il tar dice poiché il punteggio dato dalle due prove risposta aperta dava complessivamente dieci punti e quindi mi consentiva di prendere nettamente la sufficienza questo avrebbe consentito di partecipare quindi ci sono tutti gli elementi per ritenere ammissibile ricorso non è detto che sia corretto nel merito per ora è solo un giudizio di procedibilità si può andare a valutare bene tanto premesso è fondato il primo motivo di ricorso che quindi va accolto per quanto descritto quindi il primo motivo dei due motivi vi ricordate della ricorrente è accolto quella violazione dell'articolo 97 della costituzione eccesso di potere manifeste logicità e vediamo allora perché il tar annulla gli atti di cara dalla bando dell'aprile 2021 discende che le materie in esame e la loro ripartizione interna fra prova scritta orale sono esclusivamente quelle dell'allegato 1 in ogni atto si fa riferimento a quello quindi l'amministrazione resistente ad m avrebbe potuto stabilire unilateralmente soltanto alcune concrete modalità di svolgimento della prova scritta cioè aspetti organizzativi e logistici a che ora presentarsi la lettera estratta quanto dura la prova non certo le materie ok quindi l'atto esecutivo riguardava solo gli aspetti organizzativi senza intervenire sulle materie oggetto della prova oppure sulla ripartizione delle materie fra scritto e orale quindi non avrebbe potuto modificare unilateralmente le materie oggetto della prova scritta a meno che non avesse fatto e qui c'è una sorta di tirata d'orecchi facendo come ha fatto in altre occasioni ribandendo nuovamente ripubblicando un nuovo avviso e riassegnando i termini per ripresentare domanda quindi avrebbe dovuto modificare il bando ciò a maggior ragione se si considera la sopravvenuta modifica delle regole di concorso censurata da parte di corricorrente cioè l'inserimento di tre materie che era un oggetto dell'orale che attenzione incide sensibilmente sull'affidamento l'affidamento del candidato e sul cronoprogramma dei suoi studi lei le avrebbe studiate ma all'orale era inutile perdere tempo per personalmente io consiglio sempre di studiarle sempre prima ma dal punto di vista formale è ragionevole questo questa valutazione ne è dato rinvenire una qualche correlazione con la situazione d'emergenza ADM sarà difesa dicendo questa anticipazione è dettata dalle norme emergenziali covid il targli dice ma quale emergenza c'è di fare l'inglese allo scritto invece che all'orale tanto poi l'orale lo devi comunque fare quindi l'anticipazione delle materie era priva di motivazione illegittima per carenza di motivazione relativamente alla normativa emergenziale non c'erano ragioni emergenziali per anticipare queste materie in ragione di quanto procede il ricorso va accolto con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati attenzione tutti i provvedimenti impugnati ovvero sia dell'intera serie provvedimentale a partire dalla determinazione del 19 agosto 2021 questo apre importanti scenari non è un automatico annullamento dell'intero bando perché solo dalla determina il 19 agosto il bando di aprile rimane rimane il fatto che l'amministrazione dovrà valutare se intervenire in autotutela ovviamente se ricorrere al consiglio di stato e chiedere eventualmente la sospensiva cautelare di questo provvedimento se dopo l'eventuale giudizio negativo del consiglio di stato annullare in autotutela tutta la serie provvedimentale e ribandire modificando le materie o rifare una prova concorsuale escludendo quelle materie dalla prova scritta quindi si apre uno scenario favorevole per chi era stato escluso sfavorevole magari per chi è idoneo sfavorevolissimo per chi aveva vinto e si era giudicato il concorso che vedremo sicuramente nei prossimi giorni colgo l'occasione per dirvi un aspetto che spesso emerge chi partecipa ai concorsi giustamente e magari si iscrive a tanti concorsi si lamenta degli oneri che non sono soltanto la tassa di iscrizione 10 euro qualche amministrazione esagerando arriva a 50 qualcuna addirittura 90 euro di iscrizione ma che sono anche quelli logistici di prendere la macchina andare a fare i concorsi perdere un'intera giornata prendere ferie eccetera che sicuramente sono non impegnativo che in parte era stato ridimensionato dai concorsi online vi volevo però fare una parentesi su quelli che sono i costi per la collettività della di una procedura concorsuale la pubblica amministrazione è bella e cattiva allo stesso tempo perché deve gestire delle procedure che possono sembrare burocratiche che poi portano a questi ricorsi ma che sono finalizzata la tutela dell'imparzialità si fanno i concorsi pubblici per prendere i migliori si fanno i concorsi pubblici per consentire a questa ragazza di impugnare perché il concorso è ritenuto illegittimo ad un giudice terzo di annullare non come nel privato che il buon imprenditore assume suo figlio lo mette a manager perché è suo figlio e non ha bisogno di giustificarlo a nessuno e se vuol fare delle procedure le fa se vuol fare dei colloqui li fa e prende chi vuole questo è il privato il pubblico no ha delle regole le regole comportano anche la sindacabilità di queste regole ricordiamoci sempre però che fare queste procedure costa e contrariamente a quello che si pensa costa molto io vi faccio vedere un esempio di una lista della spesa che molte amministrazioni fanno quando cedono le graduatorie ad altri enti anche qui molti mi scrivono dicendo è il comune dove sono idoneo vuole scedere la gradatoria ma chiede 500 euro per poter attingere da parte di un altro ente è esoso no non è esoso vi faccio vedere questo è il l'elenco di quanto ha speso un'amministrazione per un concorso con 2285 candidati e attenzione le spese non necessariamente aumentano in funzione del numero dei candidati e la spesa media su per giù è la stessa anzi più bassi sono i candidati più la spesa media incide perché si devono affittare i locali per le prove utilizzo dei locali per la prova preselettiva 42.592 euro pensate per mettere 2285 persone con quante volte devo affittare mattina pomeriggio magari per 3 4 sessioni servizio della lettura ottica per cui quando poi vado a consegnare il lettore code con il quale venite identificati che garantisce l'annimato 6.000 euro l'ambulanza perché quando la capienza è superiore a 99 persone ovviamente c'è tutto un sistema di sicurezza che deve essere affrontato 230 euro l'utilizzo dei locali per la prova scritta 21.000 euro ovviamente dalla preselettiva alla prova scritta ci sono molte meno persone la sorveglianza durante la preselettiva è durante la prova scritta in parte garantita dal personale interno ma molto di questo personale lo fa straordinario quindi ovviamente a onere per l'amministrazione spesso si chiamano agenzie esterne quindi 5.000 e 2.000 gli psicologi per la parte psicoattitudinale la segreteria di commissione il personale che deve essere dedicato alle prove concorsuali guardate per sette mesi per sette mesi l'80 per cento di un dipendente categoria dis è dedicato a questo per quattro mesi il 40 per cento una categoria c e per 15 giorni quattro ore di straordinario quindi quantificate in 19.000 euro più busta carta penne insomma materiale di cancelleria 280 euro per fare questo concorso sono stati spesi 100.000 euro considerando che sono entrate i 22.800 euro il costo a candidato è stato 480 euro ed è una media abbastanza diffusa circa 500 euro a candidato costa gestire una procedura concorsuale allora il 480 euro qui vi metto la slide a fianco se voi considerate che ciascun candidato paga 10 euro di tassa di iscrizione i 470 euro non è che li paga qualcun altro è li paga l'intera collettività quindi ricordatevi anche a voi candidati quando vi lamentate che pagate 20 euro di tassa di iscrizione ricordatevi che quando non partecipate agli altri mille concorsi state pagando la loro non tassa di iscrizione perché i soldi pubblici sono i soldi della collettività i 470 euro come li ho chiamati è il prezzo dell'imparzialità e della trasparenza è quanto paghiamo per fare in modo di garantire che non ci vada il figlio del sindaco l'amante dell'assessore il parente del dirigente che il pubblico concorso si svolga regolarmente ed anche una sentenza del tar che annulla un concorso è un'ottima cosa pur generando nuovi costi per l'amministrazione ma è sintomo del fatto che il sistema funziona il sistema garantisce anche dei controlli esterni quindi consapevoli di questo poi ognuno si faccia le proprie idee però era l'occasione per parlare di questa sentenza e dei costi dei concorsi che spesso non sono considerati io vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo prossimamente per le nuove occasioni arrivederci grazie a tutti grazie a tutti